A Bicelli è un nuovo incontro formativo presso il centro d'ascolto della Fondazione DCL. I minori protagonisti della complessa relazione famiglia-servizi, il tema dell'approfondimento a cui ha preso parte tra le altre il sociologo e psichiatra Paolo Crepe. Valiare e parlare del ruolo dell'assistente sociale, dei comportamenti familiari e degli interventi svolti nei tribunali in materia di tutela minorile. Temi questi quanto mai attuali che vedono i più piccoli al centro di dinamiche delicate, spesse volte molto complesse ed articolate. Analizzare con accresciuta consapevolezza quelle dinamiche familiari che richiedono poi l'intervento degli assistenti sociali, il cui ruolo in genere alcune volte discussioni e valutazioni. Un appuntamento a Bicelli è che ha richiamato l'attenzione di quanti interessati a comprendere, quindi nel nostro nuovo secolo, quali le problematiche legate ai minori e cosa vuol dire ora per le famiglie educare. I minori non è che siano cambiati così negli ultimi problemi sono sempre più o meno gli stessi, forse la famiglia fa più fatica oggi a capire cosa significa educare. Una volta era più semplice perché educare voleva dire dar da mangiare, adesso che il cibo c'è non abbiamo capito che manca tutto il resto, siamo un po' degli apprendisti stregoni in questo, sono cambiati i tempi ma non si sono adeguate le culture educative, quindi per certi versi c'è quello che c'era anche 30 anni fa, la violenza sui bambini, sono casi che si contano quasi ogni settimana e dall'altra parte c'è una sorta di abbandono del bambino stesso, penso per esempio a tutto il problema della tecnologia che è un problema enorme.